E' la storia di un amore, un amore di una persona di 65 anni che passa dalla parte di una bar, escono tre note e si innamora di queste tre note, dopo averle suonate migliaia di volte. Perché? E da lì parte questa composizione che si chiama il mondo in una nota. Cosa c'è dentro ciascuna di queste robe qua? Cosa c'è? La storia di un amore 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 Ogni notte è preziosa come un uomo, come il suono del suo cuore e il suo respiro, come il suo primo ultimo sorriso, è l'albo di un pensiero, come il mistero, tiene gli occhi lungando la luna, un certo caro che adori come il mio amore che verrà, sì, verrà, è custodio del tempo, lo sa, ogni notte, è preziosa come un mostrino, la paura di un bambino appena nato, una lacrima versata sul suo grado, gli emozioni calde come il sole, fredde come l'unico suggerato, è come il giorno e la notte, come due uova, rotte a che ci introno. Ogni notte è preziosa come una donna, mai secondo il cuore, e anche a darci una a che ci introno. Ogni notte è preziosa come una donna, mai secondo il cuore, e anche a darci una donna, la notte è preziosa come una donna, mai secondo il cuore, e anche a darci una donna, a che ci introno. Ognuna notte è preziosa come un figlio che germogna nella terra di domani, è un momento disperato, è il giorno e il giorno è preziosa come un figlio che germogna nella terra di domani, e la vittoria, è la vittoria, è uno sbaglio, uno sbaglio addormentato che si sveglia e canta, siamo noi la vera meraviglia, l'armonia che segue stare insieme, ma non quello del mercato è preziosa come un figlio che germogna nella terra di domani, è preziosa come un uomo, come una donna o un figlio, perché hanno notte musica, ogni notte è musica, è la musica, la musica, sino noi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.